Sarà allo stadio il nuovo palcoscenico delle feste di settembre a Lanciano in tempo di coronavirus. I concerti di Simona Molinari il 15 settembre e Daniele Silvestri il 16 si svolgeranno al Guido Biondi, invece che in piazza Plebiscito. La modifica si è resa necessaria in quanto non sarebbe stato possibile chiudere completamente la piazza principale della città, anche ai residenti e agli esercenti, come richiesto dal commissariato di pubblica sicurezza. Restano in centro gli spettacoli del 13 e del 14 settembre, probabilmente a Piazza Pace, dove è maggiormente possibile garantire corridoi e le uscite di sicurezza, oltre che il distanziamento. Il presidente del Comitato Feste, Maurizio Trevisan. Per avere più sicurezza, dal punto di vista sia della sicurezza in senso civile per il piano Gabrielli e soprattutto per le regole sanitarie, che ci stanno veramente creando tanti problemi. Io penso che sia una soluzione ottimale, perché chi vuole intervenire potrà farlo in piena sicurezza, in piena tranquillità, senza creare problemi a chi dovesse avere qualche remora nell'andare in giro per il centro, anche se cercheremo di creare qualche alternativa a livello di spettacoli, in Piazza Pepicito, per il corso ci sarà qualcosa, anche se le prime due sere, e vale a dire il 13 e il 14, i due spettacoli che dovranno comporre il calendario delle feste, si svolgeranno in centro, probabilmente in Piazza Pace. Per quanto riguarda invece i posti a sedere allo stadio Guido Biondi per i concerti, lo ricordiamo di Simona Mullinari e di Daniele Silvestri, i posti disponibili restano gli stessi oppure aumentano? No, i posti saranno uguali perché appunto la legge anti-covid recita questo, cioè mille posti, lì ci sono, quindi i posti rimarranno invariati, per cui rimane tutto invariato, cambia solamente la location, insomma, per il resto rimane tutto invariato. La prevendita di Daniele Silvestri è già a circa 500 biglietti venduti sui mille posti disponibili. La prevendita di Simona Mullinari sarà disponibile da lunedì 10 agosto. L'amministrazione comunale dopo ferragosto rivedrà il programma delle feste annunciato nei giorni scorsi, probabilmente alla luce del microfocolaio di coronavirus scoppiato in città, scatterà il piano B, ovvero senza la fiera del giocattolo di Sant'Egidio e senza il Luna Park.